Mi chiamo Ela Akko, il nome è Dato e il mio nome è Vero Mohamed, sono nato in Libia e cresciuto in Libia Magia nel Toro Senegalese. Io da piccolo mi sono sempre voluto essere, sognavo essere un DJ, magari anche sul radio, poi quando sono arrivato a Exmo ho visto che ragazzi che vogliono cantare, vogliono suonare, quindi ho detto raga io sono un DJ e allora facciamo una cosa insieme e lì che poi da quella storia è nato anche Refugees, che è il nostro gruppo, musicale, si parliamo e ci mettiamo insieme perché la musica si collega al mondo e quindi si capiamo letteralmente. Io mi chiamo Sad e il mio nome è Dato e lo chiamo Saflow, vengo dal Senegal e sono qua in Italia dal 2011 e quindi da quando sono arrivato in Italia qua come ho amato sempre la musica e ho avuto la fortuna di conoscere un po' di gente come DJ Ela Akko, l'ho conosciuto anche lui qua che amo tantissimo la musica. Questo è il maglietto di Refugees abbiamo fatto noi e Stregio mi piace questo perché ha un significato per me perché sono uscito in Exmo e quindi quando abitavo lì non ho scelta perché dormivo a strada o dormivo lì o dormivo a strada. Se trovo un lavoro dove posso continuare a lavorare per sempre e sicuramente non vivero qua perché non è che mi sento felice di vivere qua perché è bellissimo casa no, perché vivo qua ma sento sempre che vivo nell'occupazione. Si noi prendiamo 18 qua. Io sono Lupo Nero, Lupo Nero Io sono Lupo Nero, Lupo Nero C'è ragazzi che hanno voglia di fare musica, non hanno mai qualcuno che dà mano, io dico venite a casa, registriamo, facciamo delle cose. E questa è una base che sta facendo. In più dipingo, perché l'arte, in realtà l'arte è la musica, è la cosa che mi piace proprio da piccolo. Da quando sono nato, sono fatto proprio così, perché non ho fatto scuole accademiche o qualcos'altro, artisti. Però mi piace sempre scrivere quello che so e quello che penso o disegnare quello che vedo. Io ho preso il reggae perché mi piace più che non sono mai andato a scuola in inglese o cosa, ma il reggae mi ha insegnato a parlare inglese e per me è una cosa una donna. Se c'è qualcuno che ti dà almeno solo consigli, perché non si può aiutarti a darti soldi tutti i giorni, da noi si dice no. Prima di darmi il pesce, insegnami il pescare. Quelli che capiscono la lingua che canto, sentono, hanno il sentimento, la musica si possono toccarle bene perché sono anche messaggi forti che do per sempre defendere le persone che muoiono al mare. Non è come deve giudicare qualcuno perché è da ex muoio. È messaggio. È il mio pro... È il mio pro... Va bene, non riesco a dire quella parola, ma il mio futuro sarebbe... Io ho sempre un sogno grande. Vita migliore. Sì. Con la fatica si arriva. Ho cantato anche una canzone che ho provato qua in italiano che si chiama Lupo Nero. Io e la mia gente vogliamo solamente la pace e la sicurezza. Vorrei raccontarti una storia, fratello, che mi ha successo, capito? Poi continuo così. Io sono Lupo Nero, Lupo Nero, Lupo Nero. Io sono Lupo Nero, Lupo Nero.